Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Millie Carlucci ha realizzato un cast stellare per la nuova edizione di Ballando con le stelle Ha rivelato un colpaccio davvero straordinario e i fan esultano La conduttrice del dance show Rai è tornato con l'edizione 2022 di Ballando e il fermento intorno all'atteso debutto è stata alle stelle Millie Carlucci come ogni edizione ha messo il massimo impegno nel creare un cast variegato e differenziato La prima puntata si è confrontata con lo show della rivale Maria De Filippi su Canale 5 È emersa una notizia che ha mandato in tilt il web e c'entra la partecipazione inaspettata di un volto noto e molto apprezzato Sapete chi è? Millie Carlucci è il colpaccio straordinario.Millie Carlucci ha debuttato in prima serata con Ballando con le stelle 2022 E nonostante siano molti anni che il programma va in onda, l'emozione del pubblico per la prima puntata è stata sempre forte Tra il cast alcuni nomi di spicco come, Gabriel Garco e Paola Barale, super attesi dai fan Ma questa sera c'è anche un mega colpaccio che è riuscita a emettere a segno per la gioia dei fan Si tratta di una donna amatissima e la sua presenza ha anche un significato intenso e profondo oltre a quello del piacere di averla in studio Sapete chi c'è stato sabato sera? Ecco chi è l'attesissima ospite Millie Carlucci ha voluto accanto a sé una donna e amica che in tanti hanno corteggiato ma che preferisce solitamente stare lontana dai riflettori Si è trattato di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi scomparso nel marzo 2018 La presentatrice ha sempre avuto un'amicizia speciale con Frizzi e ha sofferto molto per la sua prematura scomparsa Un brutto male lo ha strappato alla famiglia, ai colleghi e ai tantissimi fan ma il suo ricordo è sempre vivo nel cuore di tutti Un guerriero che ha lottato fino alla fine e lavorato davvero finché il fisico glielo ha permesso Carlotta Mantovan è stata ballerina per una notte e i fan ne sono esplosi di gioia La padrona di casa ha voluto una persona speciale per la prima puntata e la scelta è caduta su Carlotta e così è stato onorato anche il ricordo di uno dei più grandi conduttori della televisione italiana Auguriamo un meraviglioso inizio a Millie Carlucci per questa nuova edizione e a tutte le coppie in gara Scopriremo nel corso del programma chi sarà il migliore.Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video